Mi pare che vi aspettate molto da questo incontro con i giornalisti. Sono molti gli enti coinvolti? Sì, sono stati coinvolti praticamente tutte le zone sociali dell'Umbria, quindi di fatto tutti i comuni. Ripeto, assumo una priorità politica che sinceramente stentiamo a capire, perché non ne vediamo la necessità di tutta questa urgenza, ma c'è poi un problema anche di forma e non solo di sostanza, che ha spiegato bene anche il senatore Pillon, cioè le battaglie che la Lega ha fatto qua in Consiglio regionale per estromettere la figura degli studenti come soggetti dell'educazione, della discriminazione di genere, in realtà estromessa dalla legge, quindi con una vittoria della Lega, viene reintrodotta nel protocollo. E questo è evidente che giuridicamente non è possibile. Oltre a ciò, dà molto fastidio il fatto che ci si nasconde dietro concetti assolutamente condivisibili come la discriminazione, per propagandare idee che vanno molto al di là della semplice discriminazione, che è la teoria di genere, che è appunto tutto quel mondo che risponde a Onfalof, che risponde a tante altre associazioni gay che hanno a cuore questi argomenti, di fatto non se ne vede traccia di associazioni per le famiglie. La vostra iniziativa non è evidentemente discriminatoria nei confronti di queste associazioni? No, assolutamente. Noi chiediamo anzitutto che ci sia parità di trattamento per tutti e allo stesso tempo che nel scegliere l'argomento delle discriminazioni non si discriminino altri soggetti discriminati a loro volta. Cioè è un po' paradossale che si parli solo di identità di genere, mentre ci sono tante altre discriminazioni sui disabili, sulle donne. Parliamo di discriminazioni, non diamo un approccio ideologico a certi tipi di problemi che riguardano tutti e su cui la Lega vuole esprimere le proprie opinioni perché evidentemente siamo assolutamente contrari a qualsiasi discriminazione, ce lo dice tra l'altro la Costituzione, e anzi favorevoli a qualsiasi tipo di educazione per combatterle ma che non siano di stampo ideologico come prevede questo protocollo e come non prevede in realtà la legge regionale.